Manca poco tempo al 10 settembre 2008, il giorno che alcuni scienziati ci dicono essere destinato alla fine del mondo a causa dell'esperimento del CERN di Ginebra. Non penso che questo succederà e per questo motivo non ho studiato a memoria Er Giorno del Giudizio di Giochi Novelli che reciterò leggendo. Er Giorno del Giudizio Quattro angioloni con le trombe in bocca si metteranno uno peccantone a sonare poi con tanto devocione cominceranno a dire Fora chi tocca! Allora avvierà su una filastrocca de schertri dalla terra a pecorone per ripià figura de persone come purcini attorno della biocca E sta biocca sarà Dio benedetto che ne farà due parti, bianca e nera, una peannà in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera ad angioli e come si sannassi al letto smorzeranno gli lumi e... Buonasera! Ti l'han provato qualche volta e poi non sanno come farne a meno Spazio! Ci serve spazio per guardare avanti ma siamo chiusi in una gabbia Non mi ferivano le conchiglie sulla pelle Da sotto avevo una nuova visuale E presi il foglio e lo gettai alle lumache Che divorarono ogni sua minuta parte Milioni di lumache intorno a me Di colpo cominciarono a parlare a me Milioni di lumache decodificarono La regola che adesso io canto a voi Tempo se guardo indietro perdo l'equilibrio Credo che tutti l'han provato Qualche volta ci sono Sono ancora in questo mondo Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!